L'ente bilaterale quest'anno ha rafforzato e condiviso tutte le iniziative dell'anno precedente, non solo la formazione ma anche il welfare contrattuale, quindi ha confermato i sussidi per i dipendenti, quelli già in vigore, quindi il rimborso per le spese scolastiche, il rimborso per l'iscrizione all'asilo nido, oppure le visite mediche per le attività sportive o un contributo per le famiglie che hanno figli disabili, oltre alle altre che troverete nel sito. Ma sono state rafforzate anche con due nuovi contributi, uno che è il rimborso per l'acquisto dei libri scolastici e l'altro è un bonus cultura, quindi l'ente rimborserà i biglietti d'ingresso a musei e a siti del patrimonio dell'UNESCO nella misura di 50 euro. Confermate anche le prestazioni per le aziende, quindi il rimborso per la sorveglianza sanitaria nel caso di visita medica dei dipendenti, un contributo importante per l'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato di 1000 euro e il contributo per l'adeguamento in materia di sicurezza come ad esempio la redazione del documento di valutazione dei rischi. Si è impegnata a continuare a sostenere le attività che facciamo correntemente come la commissione di conciliazione per le controversie di lavoro oppure rendere disponibili e gratuitamente alle aziende che non hanno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza territoriale. L'impegno forte e importante che l'ente si è assunto quest'anno è aggiornare e accompagnare le aziende e i dipendenti nel cambiamento continuo con un impegno formativo di 600 mila euro. Un progetto importante che ha ottenuto anche il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, spazia su varie tematiche come può essere l'information technology, la comunicazione, l'area food, l'amministrazione del personale, la comunicazione ed altro. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito dell'ente bilaterale www.entebilateralevi.it oppure per quanto riguarda la formazione nel sito dell'ente di formazione ESAC www.esacformazione.it